Da una vita ci guardiamo, si va bene, ci vogliamo bene, ma come tutti ci isoliamo, ci deve essere per forza un'altra soluzione. Forse la comune non ha senso, la famiglia coniugale, ho bisogno di trovare un'apertura a una vita troppo chiusa, troppo uguale, forse la comune dove ognuno può portare le sue esperienze, un po' stretti qualche volta in poche stanze, ogni tanto qualche piccola tensione, qualche d'uno mi ha svegliato e adesso non riesco più a dormire, chi si è bevuto il mio caffè, chi si è messo ancora il mio costume, tento la comune, specialmente per i figli uno spazio nuovo, per ognuno tante madri e tanti padri, voglio dire senza madri e senza padri, tento la comune, non esiste proprio più niente che sia possesso, ed è molto più normale volersi bene, finalmente non è un problema nemmeno il sesso, a te non me l'aspettavo, ti credevo una ragazza sana, e pensare che ti stimavo, ti comporti come una battona, amo la comune, la tua donna preferisce un altro, ma è naturale, non fa niente più se si ingrossa la tensione, poi l'angoscia, poi la rabbia più bestiale, amo la comune, senza più nessun ritegno si arriva ad odiarsi, e alla fine quando esplode l'attenzione, come bestie, come cani, ci si spranavano, si si, ci odiamo, ci abbattiamo, si ci spraniamo per il caffè, chissà cosa c'è sotto quel caffè, c'è l'odio, l'invidia, la gelosia, c'è il solito schifo che ritorna fuori, e allora ci abbattiamo, si ci spraniamo, meglio la comune, meglio la comune, meglio la comune, meglio la comune. Grazie. 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 Grazie.